A Benassai, Braille ha detto che dobbiamo chiedere scuse, è stata una prestazione pessima da parte del campo basso, c'è un apparente motivo? Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, nei primi dieci minuti abbiamo preso questi due gol e secondo me mentalmente ci ha ammazzato, però non vuol dire che non dobbiamo regire, dobbiamo regire subito, al primo errore dobbiamo regire, ormai è andata così e basta, pensiamo subito alla prossima. Come ti spieghi anche il fatto che concretamente una reazione non si è riuscita mai ad avere, anzi è stata la pianese che ha sfiorato anche più volte il 3-0, una timida reazione nel secondo tempo ma concreta no? Secondo me per reagire devi venire da dentro ognuno di noi per prima cosa e poi dobbiamo aiutarci l'un con l'altro, secondo me questo è il segreto, è il gruppo che dobbiamo aiutarci l'un con l'altro in campo. Durante la settimana ferma il tecnico, andiamo a 2.000, i giocatori vanno a 2.000, la domenica quando c'è la gara no, qualcosa di preoccupante in questo momento della stagione, alla terza giornata? No, secondo me non ci dobbiamo preoccupare, abbiamo staccato una partita e possiamo dire che ci sta, anche se secondo me dobbiamo regire, è il primo errore, però niente, è andata così. Sei uno fra gli ultimi arrivati, com'è la tua condizione fisica? No, no, la mia condizione fisica è buona anche perché ho fatto tre partite a Trapani, due in Coppa e uno in campionato, quindi la mia condizione fisica è buona.